Musica Buonasera e bentrovati alla terza edizione del TG6 Disastro colposo, aggravato e condanna per 10 dei 19 imputati per lo più ex vertici di Montedison nel processo sulla discarica dei veleni di bussi ieri pomeriggio la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di L'Aquila che ha in buona parte ribaltato la pronuncia di primo grado Andrea Costantini Verdetto ribaltato, la Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila con la sentenza pronunciata nel tardo pomeriggio di ieri ha affermato che ci sono delle responsabilità ben precise se a bussi sul tirino nel corso degli anni si è venuta a creare la cosiddetta discarica dei veleni avvelenamento colposo e disastro colposo aggravato e quanto accertato dal collegio giudicante presieduto dal giudice Luigi Catelli sentenza rovesciata a distanza di due anni dalla prima pronuncia della Corte d'Assise di Chieti la sintesi del lungo articolato dispositivo letto dal presidente della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila Luigi Catelli è che l'avvelenamento aggravato è stato riconosciuto ma prescritto al contrario, avendo rilevato le aggravanti per il disastro colposo è stata annullata la prescrizione per questo capo di imputazione consentendo così la condanna di 10 dei 19 imputati per lo più vertici manager e consulenti di Montedison sono stati condannati a tre anni di reclusione Maurilio Agugia, Carlo Cogliati, Leonardo Capogrosso e Salvatore Boncoraglio alla pena di due anni Nicola Sabatini, Domenico Alleva, Nazareno Santini, Luigi Guarracino, Carlo Vassallo e Giancarlo Morelli come ha stabilito la stessa Corte tutte le pene tuttavia sono state condonate poiché relative a fatti antecedenti a maggio 2006 quindi coperte da indulto assolto Guido Angiolini, amministratore di Montedison dal 2001 al 2003 inammissibile l'impugnazione per Maurizio Piazzardi estraneo ai fatti assolti anche Camillo Di Paolo, Giuseppe Quaglia, Luigi Furlani, Alessandro Masotti, Bruno Parodi e Mauro Molinari un ultimo imputato, Vincenzo Santamato, è morto di recente ed il procedimento a suo carico è stato dunque estinto in primo grado invece i 19 imputati erano stati tutti assolti la sentenza ha aperto anche il fronte dei risarcimento che i condannati dovranno riconoscere alle parti civili per un totale di 3,7 milioni di euro suddivisi in 2,7 milioni di provvisionali e 592 mila euro che, con gli oneri, arriveranno a un milione di spese legali in tal modo la sentenza ha stabilito il principio del risarcimento danno che viene per ora coperto solo parzialmente dalle provvisionali il conto successivo sarà fatto in sede civile il collegio giudicante depositerà tra 90 giorni le motivazioni della sentenza il prossimo mese di maggio, dunque, le difese potranno vagliare la molto probabile ipotesi del ricorso in Cassazione hanno già riconosciuto delle provvisionali ma soprattutto riconoscono il diritto a risarcimento del danno che quindi potremo attivare sulla base di questa sentenza con una base importante un ringraziamento mille lo va assolutamente a tutti i nostri associati a tutte le nostre forze vive e a voi le stampa che avete tenuto accesi riflettori e questo per la nostra democrazia anche in termini di civiltà e di cultura giuridica è importante soddisfazione da parte del WWF per la sentenza di Bussi che riconosce l'avvelenamento colposo del fiume dopo l'obbligo del risarcimento a carico dei condannati come abbiamo sentito ora gli ambientalisti chiedono che i fondi vengano investiti nella redazione di uno studio epidemiologico su chi per anni ha bevuto acqua inquinata Francesca Romana Testi Ribaltata la sentenza in primo grado per il processo della discarica dei veleni di Bussi WWF come si dice? Ma è soddisfatto, non certo per le condanne di per sé perché ci dispiace comunque che qualcuno debba essere condannato per qualche cosa ma è un fatto importantissimo che sia stata stabilita la costruzistenza del reato e sia stato stabilito il principio che chi inquina paga questo è fondamentale, lo stavamo chiedendo da tantissimo tempo adesso occorre stringere i tempi e arrivare veramente alla bonifica perché non si può più andare avanti così sono passati troppi anni con una vicenda giudiziaria abbastanza sconcertante anche per i tempi che ha comportato adesso ci siamo c'è una condanna in appello, c'è un principio sacrosanto del sancito occorre passare ai fatti e disinquinare restituire agli abruzzesi un territorio finalmente sano Dieci anni per arrivare a questa sentenza e soprattutto adesso quanto si dovrà attendere per la bonifica secondo voi? Speriamo poco ma questa non è una domanda che puoi fare a noi nel senso che noi ci siamo da anni stiamo chiedendo questa cosa e tra l'altro chiediamo anche un'altra cosa con grande forza adesso occorre che si faccia finalmente un'indagine epidemiologica per sapere se e come e quando qualcuno ha avuto dei problemi dall'acqua contaminata che comunque abbiamo bevuto Ad un mese esatto dalla tragedia dell'hotel Rigopiano la comunità di Farindola è ancora estremamente provata da questa tremenda disgrazia difficile metabolizzare quanto è accaduto il servizio Maresciallo Lorenzo Gagliardi soccorso alpino e guardia di finanza oggi è un mese esatto da quella tragedia che ha colpito l'hotel Rigopiano com'è la situazione? com'è sta andando avanti? I ricordi sono ancora diciamo molto tristi perché è sicuramente una valanga così devastante che ha sepolto e distrutto un intero resort con circa 40 persone all'interno è una cosa fuori dal normale e per fortuna comunque sono state tratte in salvo un po' di persone e quindi la gioia pure di vedere tutti quei bambini e quella famiglia che si è ricomposta comunque ci fanno andare avanti e ciò c'è la più determinazione nel fare bene tutti i giorni quello che facciamo per addestrarci per essere pronti a ogni intervento A un mese esatto dalla tragedia che ha colpito l'hotel Rigopiano che cosa provate voi come comunità farindolese? A distanza di un mese è ancora troppo grande la ferita aperta da ciò che è successo proprio un mese fa lassù e quindi sono ancora tutti molto provati ma non solo i familiari che è la ferita più grande nelle famiglie ma soprattutto la comunità in sé per sé che non ancora forse metabolizza quello che è successo Andare avanti adesso è complicato ma purtroppo in queste tragedie bisogna sempre andare avanti e farsi forza nella comunità per trovare lo stimolo adatto Assolutamente, la vita continua è retorico dirlo purtroppo bisogna trovare la forza per andare avanti e domani con la squadra locale proprio per dare un segno di forza di volontà nel superare tutte le difficoltà del caso metteremo uno striscione in onore di Roberto al campo nell'occasione del derby sarà invitata la cittadinanza le autorità, la Lega e anche la famiglia del Rosso Un vasto fronte franoso si è sviluppato in località Castelnuovo di Campli già evacuati tre edifici per un totale di 30 persone diverse abitazioni sono a rischio Crollo Continua l'emergenza anche sul fronte del dissesto idrogeologico in Abruzzo negli ultimi due giorni una condizione di particolare criticità si è venuta a creare in località Castelnuovo di Campli dove già da giovedì è scattato l'allarme presso i vigili del fuoco per il cedimento di una scarpata profonda circa 80 metri sul torrente Siccagno lo smottamento ha provocato il crollo di una cabina della media tensione dell'Enel alta circa 6 metri il cedimento di un tratto di recinzione del cortile di un'attività produttiva e di due rimesse e un tratto di circa 25 metri della strada comunale a due corsie i vigili del fuoco hanno evacuato tre edifici per un totale di 30 persone il materiale franato sul fondo del dirupo ha ostruito il corso del torrente creandolo un piccolo invaso ieri la situazione si è ulteriormente aggravata mettendo a rischio la posizione di alcune abitazioni e capannoni che si trovano proprio sull'orlo della frana e quindi a rischio crollo sono entrati in azione anche i droni dei vigili del fuoco impegnati già per la frana di Ponzano di Civitella del Tronto per effettuare la perlustrazione dell'area della frana e documentare le condizioni di stabilità della scarpata la documentazione video fotografica sarà messa a disposizione degli enti competenti ad accertare le condizioni della frana e individuare gli interventi di messa in sicurezza siamo in emergenza ha dichiarato il sindaco di Campi Pietro Quaresimale occorrono subito i primi soldi per eseguire interventi urgenti affinché la frana si fermi e non pregiudichi altre abitazioni Ancora cronaca rapina questa mattina in Viale Giulio Cesare a Vasto ai danni della gioielleria Arte Orofa poco dopo le 11 due persone a volto scoperto di cui una armata di pistola sono entrate nel locale dove in quel momento c'era solo la titolare i malviventi si sono fatti consegnare diversi oggetti in oro per poi darsi alla fuga a bordo di una Fiat di colore blu da quantificare ancora la montare del danno subito l'autovettura utilizzata per la rapina è stata trovata poi in fiamme dagli agenti della polizia locale di San Salvo il mezzo era stato rubato lo scorso mese di dicembre a Campo Marino Campo Basso al vaglio degli investigatori ora le riprese delle telecamere esterne e interne della gioielleria l'80% delle scuole di Teramo non è sicuro lo afferma l'onorevole Gianluca Vacca deputato dei 5 Stelle che ha annunciato di aver avanzato la richiesta di modifiche sostanziali al decreto scuole sicure per finanziare la definitiva messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone sismiche Tania Bonnici Castelli a Teramo zona sismica 2 valore medio alto più dell'80% degli edifici scolastici non risultava essere a norma tecnica antisismica già da settembre 2016 lo denuncia il deputato del Movimento 5 Stelle Gianluca Vacca che ha tenuto una conferenza stampa nella sede cittadina dei pentastellati per annunciare la richiesta di modifiche sul decreto scuole sicure purtroppo quella situazione disastrosa nel quale versano le scuole è conosciuta da anni secondo i dati che gli stessi comuni hanno fornito e hanno dato al Ministero sul sito che sono rintraccebbi sul sito scuole in chiaro circa l'80% delle scuole a terra non è a norma antisismica questi sono dati che i comuni conoscono da anni quindi i provvedimenti devono essere presi già da tempo e non si doveva arrivare a questa situazione oggi purtroppo noi abbiamo quindi i nostri alunni che vanno in scuole che non sono a norma e che non sono sicure è una situazione intollerabile alla quale bisogna dare delle risposte immediate bisogna fare un tavolo insieme alle prefetture e a tutti gli enti coinvolti per trovare degli edifici idoni dove far frequentare appunto i nostri alunni e poi bisogna fare delle strategie ovviamente di medio e lungo periodo di lungo termine quindi trovare risorse fare una cabina di regia unica che abbia come obiettivo quello di mettere a norma tutti gli edifici pubblici in particolare gli edifici scolastici nell'arco di 2-3 anni al massimo l'incontro con l'onorevole Vacca è stato anche l'occasione per il capogruppo del Movimento 5 Stelle al comune di Teramo Fabio Berardini di sottolineare alcune deficienze nella comunicazione da parte dell'amministrazione in caso di emergenza nei confronti della popolazione e per chiedere un incontro pubblico sui costi del polo scolastico a Piano Daccio Ancora ritardi e attese per l'avvio dei lavori di dragaggio al porto di Ortona il presidente della commissione di vigilanza Mauro Febo spiega i rischi ai quali va incontro la regione Abruzzo dopo la bocciatura dei consigli di Stato ascoltiamo La preoccupazione alla fine si era rivelata giusta per il dragaggio del porto di Ortona Forza Italia aveva annunciato che si era fatto a troppa velocità si era data a troppa velocità quello che era il lavoro e anche la gara per l'assegnazione dei lavori c'è stato un pronunciamento a questo punto c'è un nuovo tempo da attendere per un'altra valutazione soprattutto per la gara e l'avvio dei lavori Noi temiamo purtroppo che ci sia l'annullamento della gara perché è stata fatta veramente male ma non è la gara fatta male è stata fatta male la valutazione in batte ambientale lo abbiamo detto all'inizio che quel tipo di valutazione non portava da nessuna parte bisognava ragionare ci si è detto che non volevamo il bene della città di Ortona credo che questa sia la dimostrazione di un fallimento di un'amministrazione e soprattutto di un governo regionale che si è affidato a qualcuno dando consigli e soprattutto spronando ad andare avanti prendendo in giro la città dicendo che si perdevano i fondi non è vero niente perché al massimo si sarebbe perso un 5% che si poteva sicuramente recuperare con il ribasso di gara oggi assistiamo alla sentenza del Consiglio di Stato così come avevamo paventato che non decide nulla perché rinvia tutto al 18 maggio in piena stagione estiva ma comunque prima di dover decidere ci sarà un tecnico un CTU che dovrà valutare le due offerte ma le dovrà andare a valutare proprio nelle criticità che noi abbiamo segnalato proprio sulla valutazione di imbatte ambientale soprattutto dove andranno a finire questi fang credo che i cittadini di Ortona ricorderanno il problema della banchina dove andranno messe nella vasca di colmato dove andranno messe questi 18 metri di altezza di questi fang credo che siamo veramente correndo il rischio di perdere questo finanziamento che mi permetto di ricordare con tanto lavoro ho fatto per portarli a Ortona con tanto lavoro hanno fatto gli amministratori di allora di Ortona ecco questo dispiace perché perdono il finanziamento di questa entità credo che sia veramente una beffa se ne è iniziata a parlare un anno fa e quanto andrà avanti l'attesa? credo che forse ne abbiamo parlato anche più di un anno fa quindi abbiamo parlato forse quasi due anni fa sicuramente un anno e mezzo fa dobbiamo aspettare la relazione di questo di questo tecnico mi auguro e spero ma ho forti dubbi che il tecnico addirittura non chieda al Consiglio di Stato l'annullamento della gara perché credo che le difficoltà di valutazione di aggiudicare una gara ma ripeto soprattutto perché ci sono lacune nell'indirizzare il tipo di lavori da dover eseguire non porteranno nulla di buono per la città di Ortura da tre anni recluso in casa da ieri grazie all'impegno dell'associazione carrozzine determinate Giuliano Ottavianelli 71enne con disabilità potrà uscire dalla propria abitazione grazie allo scivolo realizzato all'esterno del palazzo dall'amministrazione comunale di Pescara e quindi dal neoassessore vediamo come ha vissuto questi tre anni e come vive questa giornata tre anni l'ho vissuti solo con l'effetto di questo ragazzo che è tutta la mia vita e credo che anche lui quello che vuole io faccio tutto perché c'è solamente lui non c'è nessun altro se mi dovesse lasciare lui per me sarebbe finita perché sono lui però io gli faccio mancare niente più di un figlio più di qualsiasi cosa è bravo oggi se non avevo lui non avevo la persona che mi poteva portare giù perché l'abbadante di riposo e anche quella mi è cominciata poco bene e non possiamo essere due in casa malati una grande e bella vittoria ancora una volta delle carrozzine determinate una associazione straordinaria che non si ferma di fronte a niente e combatte davvero le ingiustizie non è possibile che ci vogliano tre anni una persona reclusa in casa l'unico reato è quello di avere una patologia o una malattia è veramente assurdo incredibile e comunque oggi registriamo davvero una bella giornata dopo tre anni il comune di Pescara ha ascoltato le nostre richieste e devo dire che l'assessore Allegrino prontamente si è subito attivata con noi e abbiamo risolto questa situazione però come dicevi proprio tu ci sono tantissime situazioni negli alloggi popolari non solo nel Pescarese ma in tutto l'Abruzzo ci sono persone recluse in casa a causa delle malattie qui siamo alla violazione dei diritti umani siamo proprio veramente a un colpo duro all'essere umano questo non può accadere c'è una responsabilità chiara e netta delle istituzioni non è stato semplice perché questo immobile non è un immobile di esclusiva proprietà del comune ma è stato quindi necessario naturalmente coinvolgere il condominio e quindi fare tutta una serie di operazioni e di interventi inoltre è stato necessario reperire anche i fondi e oggi siamo arrivati effettivamente in tempi brevi a raggiungere questo risultato perché era da troppo tempo che il signor Ottavianelli era rinchiuso prigioniero in casa oggi lui ha la possibilità di uscire tutti i giorni quando vuole abbiamo sperimentato che lo scivolo è stato fatto in maniera in maniera adeguata e io ho voluto anche regalargli un simbolico portachiavi che è un po' una lampadina con cui ho voluto dirgli oggi hai da questo momento in poi la possibilità di uscire il WWF scende in piazza per una sensibilizzazione nei confronti dei lupi il rischio dell'abbattimento selettivo può essere infatti ovviato con progetti volti alla tutela del territorio e soprattutto degli allevatori vediamo tantissimi disegni di ragazzi e bambini a difesa del lupo la preoccupazione è quella dell'abbattimento selettivo in Abruzzo è una regione conosciuta soprattutto per la presenza di questo animale sì sicuramente è importante che l'Abruzzo abbia risposto in maniera così forte l'abbiamo già fatto attraverso la regione che ha espresso il suo parere contrario all'ipotesi di abbattimenti previsti nel piano di gestione che sta portando avanti il ministero dell'ambiente e questi ragazzi invece come gli abruzzesi degli anni 70 che furono i primi a dire no agli abbattimenti del lupo facendo partire l'operazione San Francesco organizzata proprio dal Parco Nazionale d'Abruzzo insieme al WWF per salvare il lupo questi ragazzi appunto anche nel 2017 ribadiscono la volontà dell'Abruzzo di salvaguardare questo splendido predatore c'è stata una grande sensibilizzazione anche a livello nazionale alla notizia degli abbattimenti selettivi come si può evitare questa misura noi siamo assolutamente convinti che il piano di gestione vada approvato ma che vada sralciata proprio la misura 22 che è quella che prevede gli abbattimenti perché non ci sono le condizioni in Italia per procedere a un sistema di questo genere per il controllo e perché poi questo sistema di controllo è assolutamente inefficace per quanto riguarda i danni che le attività zootecniche possono avere dal lupo portiamo avanti tantissimi progetti come WWF attraverso i cani da guardi attraverso le recensioni elettrificate attraverso tutti quei sistemi anche di indennizi per quanto riguarda i danni che poi possono arrecare ai greggi che sono delle misure molto più efficaci di quelle che sono invece l'abbattimento gli esponenti di Pescara Mi Piace Berardino Fiorilli e Armando Foschi hanno denunciato nuovi sversamenti nel fiume Pescara la situazione definita drammatica a pochi mesi dall'avvio della stagione balneare Paolo Renzetti Fiorilli si parla ancora del problema dei sversamenti nel fiume Pescara l'ennesima denuncia che presentate oggi si purtroppo Pescara Mi Piace è diventata famosa per queste denunce che si sono rivelate sempre vere non solo fondate ma troppo spesso più drammatiche di quelle che noi rappresentavamo in questo caso un'ulteriore denuncia di sversamento in mare direttamente dal depuratore con una procedura particolare denunciata dalla stessa azienda che gestisce il depuratore la procedura ILC 33.03 che non significa altro che bypassare il depuratore e sversare direttamente in mare procedura d'urgenza che dovrebbe adottarsi quando le condizioni meteorologiche non consentono al depuratore di filtrare tutta l'acqua ma in questo caso non ne capiva il motivo ma la cosa grave per quanto ci risulta in base ai documenti che stiamo consegnando alla stampa è che dal 15 gennaio al depuratore di Pescara è stato attivato il bypass e sino ad oggi non abbiamo notizie sulla chiusura quindi vuol dire che dal 15 gennaio ad oggi il depuratore sversa su Fossocavone che sversa direttamente nel fiume Pescara Mancano tre mesi circa all'inizio della stagione balneare qual è la situazione ad oggi per quello che risulta a voi La situazione è gravissima e stendiamo solo chiacchiere si parla di un mega palto dell'ACA per il prossimo depuratore siamo al 17 di febbraio i lavori dovevano partire a metà febbraio 2017 quindi questo fa il quadro di tutto quello che orbita intorno all'inquinamento del fiume Pescara del mare e delle attività balneari e delle attività produttive non dimentichiamo che nei giorni scorsi l'ASL ha sospeso la vendita delle vongole perché è piena di feci Ed ora passiamo la pagina sportiva domani alle 15 Pescara Genoa sarà la prima stagionale per Zenec Zeman richiamato a Pescara in sostituzione di Massimo Oddo il Boemo ripartirà dal 4-3-3 con l'auspicio di ricreare entusiasmo nell'ambiente e fare risultati migliori del predecessore probabile avvicendamento tra i pali con Fiorillo al posto di Bizzarri Out Campagnaro Baebec e Gilardino Andrea Costantini La seconda esperienza di Zenec Zeman a Pescara sta per iniziare se sarà ancora Zeman all'Anglia come 5 anni fa lo diranno i prossimi mesi per il momento però l'arrivo del Boemo deve avere come finalità quelle di ridare stimoli ad una squadra che al di là delle dichiarazioni di circostanze è sembrata rassegnata alla retrocessione e ricreare della fiducia nell'ambiente un ambiente provato dalle tante sconfitte dall'ultimo posto da un punto di vista tecnico Zeman dovrà ricostituire un nuovo progetto tecnico nella prossima stagione in cadetteria anche se il Boemo nella conferenza di presentazione ha precisato che nonostante la difficile posizione di classifica il Pescara ha il dovere di tentare di risalire bisogna provarci ieri ha salutato la compagnia la restante parte dello staff di Oddo i collaboratori Zauri e Digianatale e i preparatori Proietti e Falasca resta il solo preparatore dei portieri marini Zeman si è messo subito al lavoro col vice Cangelosi e il preparatore Ferola non c'è il tempo materiale per lavorare sui concetti di gioco e gli schemi prediletti ma il Pescara che domani scenderà in campo col Genoa ripartirà dal 4-3-3 il dogma ineludibile di Zeman cercando di scegliere chi in una rosa che non è stata allestita da lui può essere adatto al sistema avvicendamento intanto tra i pali con Fiorillo al posto di un bizzarro in difficoltà inedita anche la coppia centrale con Bovo al debutto affiancato da Fornasier Zampano e Biraghi due difensori di fascia davanti alla difesa Zeman predilige la qualità allora ecco Gaston Brugman con Verre e Memushai mezziali questione attacco Girardino non è stato convocato e si è recato a Roma per una visita al ginocchio malconcio presso il professor Cerulli probabile Caprari centravanti Mitrizza a sinistra e ballottaggio sulla destra del tridente tra Castanoss e Benalì difficile vedere Cerri dal primo minuto assenti anche Baebec e Campagnaro se il Pescara cerca di cambiare pagina lo stesso vuole fare un Genoa in difficoltà con Juric che rischia la panchina in caso di mancata vittoria successo che manca da due mesi cioè dal recupero con la Fiorentina a metà dicembre da allora il magro bottino di due pareggi e sei sconfitte la crisi è evidente assenti Lex Perin Veloso Gentiletti e Tarabt 4-4-1-1 con Castaglia e Illiemarchi in mezzo Lazovic e Palladino sulle fasce Rigoni a sostegno del Ciolito Simeone dirigerà a Battista di Molfetta curva nord che sarà vuota al centro dopo che Pescara Rangers in settimana hanno fatto sapere che da qui a fine stagione sono presenti solo in trasferta e come abbiamo sentito dal servizio partita molto delicata per l'allenatore del Genoa Ivan Iuric a rischio esonero sentiamo un estratto della conferenza pregara del tecnico appunto arriva un nuovo allenatore nuovi stimoli tecnicamente molto bravi già da l'anno scorso li conosco praticamente tutti hanno adotti tecniche fantastiche squadra che ha perso fiducia per brutti risultati e adesso con l'allenatore cercano di rimediare in questo momento come prima mi sembra che si lavora bene che stiamo facendo cose giuste durante settimane inseriamo i giocatori nuovi le squadre che comincia a capire i movimenti anche contro Napoli si è visto abbastanza di quello che volevo per cui sono concentrato molto su quello poi quello che dice il presidente fa parte del gioco però non è che sono preoccupato molto di questo ma loro sono molto pericolosi perché a tutte le squadre fanno fanno tanti gol perché hanno qualità immense specialmente centro capo e su sono veramente bravi hanno pagato molto fase difensiva calci piazzati disattenzione prendono gol veramente a volte anche gol strani e alla mia squadra io non gli chiedo niente in particolare quello che si fa durante settimane voglio che giocano con tranquillità poi per quanto riguarda Zemma lui è famoso anche per il fuorigioco si immagina già un Pescara che proverà a farlo e le chiedo allora visto che Simeone è uno che gioca tanto sul filo se è una cosa che avete studiato o comunque che approccio si aspetta domani penso che magari quell'aspetto là non ha ancora riuscito a lavorare penso in due o tre giorni che vai subito su quello la vedo un po' dura e penso che bisogna fare sia grande pressing in senso di non permettere di giocare però anche di giocare bene in Lega Pro sono 24 giocatori convocati dal neo allenatore del Teramo Guido Ugolotti in vista della gara di domani al Bonolis contro il Sud Tirol fuori causa Spighi e Branduani il neo tecnico pensa ad un nuovo assetto tattico con il modulo 4-2-3-1 a quattro giorni non sono sono sufficienti per cercare di installare un rapporto di cercare di fargli capire che la situazione indubbiamente proveremo a provare qualche cosa di diverso abbiamo a che fare con abbiamo avuto una settimana in cui hanno giocato lunedì in cui si è giocato lunedì perciò martedì e mercoledì qualche d'una aveva ancora qualche piccolo fastidio di conseguenza molti non li ho avuti se non per uno o due allenamenti a disposizione mi sono fatto un'idea c'è da lavorare loro lo sanno e questa è la cosa importante io voglio una squadra che entra in campo andando a cercare che cerchi sempre di giocare che cerchi sempre di andare a vincere perché la classifica lo impone detto questo di fronte abbiamo un avversario che ha dei numeri che ha delle qualità molto importanti è vero è una squadra che nell'ultimo periodo si è un pochettino ripresa ha avuto anche lei un percorso un pochettino così travagliato però è una squadra pericolosa e di conseguenza loro sanno perfettamente l'avversario che affrontiamo domani mattina continueremo a studiarlo per fargli vedere delle immagini io mi aspetto che loro mettano un pochettino che vadano oltre qui c'è bisogno di tutti c'è bisogno domenica tra poche ore abbiamo una partita importantissima mercoledì abbiamo un recupero e poi andiamo a Padova nell'arco di una settimana giochiamo tre partite che potrebbero essere non dico determinanti ma decisive perché non è che manca due gironi o un girone e mezzo alla fine del campionato qui c'è bisogno di Petrella c'è bisogno di Caidi c'è bisogno che Scipioni recuperi la condizione c'è bisogno di tutti c'è bisogno che se uno viene portato in panchina deve fare 20 minuti faccia 20 minuti alla morte io l'ho detto ai ragazzi qui c'è un gruppo soprattutto in alcuni ruoli in cui tutti potrebbero giocare e in seguito a quanto accaduto durante l'allenamento pomeridiano di ieri un diverbio con l'allenatore Ugolotti in accordo con lo staff tecnico la Teramo Calcio ha deciso di risolvere il rapporto di collaborazione che legava il preparatore dei portieri Fabrizio Grilli al sudalizio Biancorosso fino al 31 giugno prossimo Fabrizio Grilli sarà temporaneamente sostituito da Giuseppe Oliverio già operante nel settore giovanile Biancorosso al contempo entrano due nuove figure nello staff tecnico di Ugolotti l'allenatore in seconda Manolo Liberati e il preparatore atletico Massimiliano Lattanzi settima giornata di ritorno domani in serie D ad Avezzano continuano a tenere banco le vicende societarie con il patron Paris pronto a lasciare a causa dello scarso seguito della squadra Vastese Campobasso senza i propri tifosi che hanno deciso di disertare la trasferta a causa della limitazione del numero di biglietti decisa dall'osservatorio sulle manifestazioni sportive le abruzzesi del girone sono quelle che al momento godono di migliore salute l'Aquila e Avezzano proseguono il loro cammino incontrando squadre sulla carta tutt'altro che resistibili per l'Aquila match Casalingo con il Città di Castello squadra in posizione da retrocessione diretta dopo la sofferta vittoria di Rano 6 si sono sopite un po' di polemiche il tecnico Morgia recupera Malus Brenci e soprattutto Minincleri quest'ultimo è ancora più indispensabile visti i forfei di Bonvissuto e Peluso e la squalifica di Russo anche se l'Aquila può giovarsi dell'esplosione di Noman i tre punti sono d'obbligo l'Avezzano è in serie aperta di tre vittorie e cerca il poker in casa del Latte Dolce Sassari che è invischiata nella lotta per evitare i play-out i marsicani vogliono anche vendicare la cocente sconfitta a domicilio della gara d'andata in panchina non ci sarà il tecnico Pino Tortora fermato per una giornata dopo l'espulsione di domenica scorsa Avezzano che fa parlare di sé molto anche fuori dal campo con le estenazioni del padrone Gianni Paris che in settimana deluso dalle poche presenze allo stadio ha dichiarato di essere pronto a cedere alla società ed ha anche postato sulla pagina Facebook i rendiconti finanziari delle ultime stagioni sportive invitando eventuali creditori della società se ve ne sono a rivendicare la somma dovuta nel girone F la gara di cartello è Campobasso-Vastese vigilia turbata dalla decisione dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive che ha limitato a soli 50 i biglietti per la tifoseria della Vastese che per tutta risposta a mo' di protesta diserterà la trasferta morisana per il neotecnico Massimiliano Favo sarà gara da ex visto che lo scorso anno subentrando a Cappellacci prese i lupi nei bassi fondi della classifica trascinandoli fino alla finale playoff persa a Fano la sua esperienza è iniziata male col tonfo interno col Matelica e la Vastese ha bisogno di punti per marciare verso i playoff sta meglio il Campobasso che al momento si sta aggiovando della cura del neo allenatore Silva scontro salvezza per il Pineto che ha dimenticato il K.O. di Agnone con il buon punto contro la San Maurese ma il match interno col Castelfidardo va monetizzato con i tre punti che sarebbero utili sia per uscire dalla zona playoff sia per dare il potenziale colpo di grazia ad un avversario in difficoltà Pineto che aspetta un aiuto dal San Nicolò impegnato sul campo del Romagna Centro nel nuovo anno la squadra di Epifani non ancora ingranato ma dovrà farlo se vorrà guadagnare una posizione playoff privilegiata ed è tutto per oggi grazie per l'attenzione buonanotte buon fine settimana